Brutta giornata per la Biellese, che incappa nella sua seconda sconfitta stagionale. Il campo di corso 53esimo fanteria è terra di conquista per le compagini di settimo torinese. Dopo le violette, anche la Pro Eureka mette a segno il colpaccio. Il 3-4-3 degli ospiti è un rebus per la Biellese. In fase difensiva, la Pro si chiude benissimo e con ripartenze e palle alte mette in grave difficoltà i bianconeri. Al quarto d'ora, un cross da un esterno di fascia all'altro si conclude con l'incornata di Verlucca che batte Vallacchi. Una traversa di Panatti scuote la Biellese, che non riesce quasi mai però a entrare nell'area torinese. La Pro, Sorniona, colpisce ancora lo scadere del primo tempo. Bomber Pititto incorna a fil di palo una punizione scodellata da Sinisi. La ripresa bianconera non offre particolari emozioni fino all'euro-goal di Scienza, che da distanza siderale pesca l'incrocio. Nei cinque minuti seguenti la Biellese forza l'assedio, ma la Pro si salva e al novantesimo può celebrare il colpaccio esterno. Lo stesso Scienza si fa cacciare nel finale per proteste. La domenica bianconera è stata resa meno amara dalla pareggia altrettanto sorprendente dell'Ostresa in casa del fanalino di coda Varallo. Agguantato in extremis, blues che vanno a più tre in classifica, Biellese raggiunta dall'Oleggio che pareggia con la Fulgor Valdengo. Alla rigore di Bottone risponde quello di Caporale. Sia l'Ostresa che l'Oleggio hanno tuttavia una partita in più. Mister Alberto Rizzo, una giornataccia, una sconfitta con una reazione che forse è arrivata un po' troppo tardi. Abbiamo sicuramente sbagliato l'approccio del primo tempo, abbiamo preparato in settimana tutta un'altra partita per essere molto aggressivi su una squadra che io avevo visto l'altra settimana. È stata che si chiude a cinque molto velocemente, quindi l'idea era di andare a rubare palla alti per colpire velocemente. L'abbiamo preparato tutta la settimana così e poi l'avversario ci ha messo una difficoltà diversa. Ci siamo andati sotto, poi abbiamo preso il 2-0, è diventato complicatissimo contro una squadra ordinata e con una grande fisicità, una grande carica agonistica. La reazione del secondo tempo mi è piaciuta perché le abbiamo messi nel loro metà campo, ma in una condizione tattica veramente difficile perché gli spazi non c'erano. Una giornata pazza comunque, anche guardando gli altri risultati, ma un campionato più equilibrato evidentemente di quanto non si possa pensare. Sì, come si dice sempre, il giorno di ritorno inizia un altro campionato, tante squadre sono rinforzate, i risultati delle prime tre sono lì a testimoniarlo. Lo Stresa perdeva in casa dell'ultimo in classifica fino a cinque minuti della fine, lo leggo anche, ha fatto gol contro Fulgor non troppi minuti della fine. Non ci resta che lavorare, è la seconda sconfitta dell'anno, questa non ci deve far dimenticare tutte le cose buone che abbiamo fatto, ma è un momento in cui bisogna riflettere su degli errori che evidentemente facciamo e ripartire.